E salve tutti ragazzi bentornati finalmente in questo nuovo video Ritornano i video news, i video domenicali pubblicati di lunedì Questa è la prova che sono realmente io e che non è più l'hacker Perché soltanto io posso sbagliare le pubblicazioni di tutte le mie rubriche di video Ad ogni modo, mentre io ero qui a rigirarmi i pollici Se ne sono viste di tutti i colori per quanto riguarda novità, rumors e leaks sui nuovi iPhone 14 Possiamo chiamarli così, dato che l'ultima generazione di iPhone uscita il settembre scorso è il 13 Gli iPhone che usciranno quest'anno, quindi a settembre 2022, si chiameranno iPhone 14 Ma questa volta a quanto pare cambieranno davvero tante tante cose Questo dovrebbe essere l'anno dei cambiamenti radicali, sostanziali Ho aspettato infatti una settimana circa per radunare tutte le novità e verificare quali fossero le più attendibili da comunicarvi E finalmente adesso vi posso portare un video riassuntivo di quello che sappiamo fino ad adesso Sull'iPhone 14, che modelli saranno, quali dimensioni avrà lo schermo, l'aspetto estetico e così via Ma prima una parola dal nostro nuovo sponsor Nord Pass Che direi che calza a pennello visto il recente attacco hacker che ho subito Ecco gli errori più comuni quando si parla di cyber sicurezza Usare sempre la stessa password Usare una password comune o che può essere facilmente indovinata O collegare tutti i propri account ad un login via Facebook o Google per esempio E se dovessero hackerarvi Facebook potrebbero accedere un po' dappertutto Capite dunque che è molto importante impostare per ogni sito web una password diversa, univoca E che sia molto lunga e complicata Proprio per questo motivo vi servirà un password manager E Nord Pass è l'app che fa il caso vostro Sviluppata dai creatori di NordVPN Prendetela come una cassaforte digitale Super sicura al cui interno potete salvare dati di accesso o password Note criptate, carte di credito o informazioni personali Tutte queste informazioni sono ovviamente criptate da una password generale Che sarà l'unica che dovrete ricordare e ovviamente non condividere con nessuno Vanta anche alcune funzioni mirate come per esempio l'autofill Che vi permetterà di recuperare dati di accesso direttamente dal browser Un generatore di password sicure Nel caso foste a corto di fantasia quando create un nuovo account E Password Health Che controllerà periodicamente se le vostre password sono ancora sicure O magari sono incappate in qualche data breach E di conseguenza sarebbero da cambiare Fortunatamente potrete ottenere il 52% di sconto sul piano di due anni di NordPass Premium Recandovi al link nordpass.com slash blackjik In questo modo riceverete addirittura un mese gratis del servizio Vi ricordo anche la garanzia di rimborso totale entro 30 giorni nel caso non foste soddisfatti Trovate tutte le informazioni della promozione qui sotto in descrizione Ok, iPhone 14 State già vedendo un render di come potrebbe essere Basato ovviamente su delle foto di alcuni prototipi liccati in Cina Di cui vi parlerò tra poco Ma questa dovrebbe essere la line up di iPhone 14 che vedremo a fine anno più o meno E in particolare i modelli dovrebbero chiamarsi iPhone 14 iPhone 14 Max iPhone 14 Pro E iPhone 14 Pro Max Ecco la prima differenza Quest'anno Apple potrebbe davvero dire addio all'iPhone 14 Mini Quindi l'iPhone 13 Mini potrebbe essere l'ultimo della sua dinastia E vi parlo proprio di una mera questione di nome Voi magari potreste pensare ah l'iPhone 14 sarà il nuovo iPhone 14 Mini Soltanto che gli hanno cambiato il nome No, non è così Sarà proprio l'iPhone Mini con un display da 5,4 pollici a sparire L'iPhone 14 non avrà un display di quelle dimensioni Si andrà direttamente all'iPhone 14 Che avrà, si pensa, una diagonale display canonica da 6,1 pollici E poi ci sarà una versione Max Quindi una versione con il display da 6,7 pollici Anche dell'iPhone normale Quindi dell'iPhone non Pro E si chiamerà appunto iPhone 14 Max Quindi Apple a quanto pare si è resa conto che magari alcuni utenti Non vogliono la versione Pro dell'iPhone Vogliono la versione base Ma ne vogliono comunque una grande quanto il Max E poi ovviamente ci sarà la linea Pro Composta quindi da iPhone 14 Pro Anche lui con un display da 6,1 pollici E l'iPhone 14 Pro Max Che sarà la versione da 6,7 pollici della linea Pro Ovviamente non fate ancora affidamento sui colori di questi render Perché per il momento sono abbastanza casuali Sapete che i colori sono tra le ultime cose ad essere trappelate Quindi potremo avere un'idea dei veri colori Diciamo secondo me a fine estate Quello di cui però siamo abbastanza sicuri È che in realtà un iPhone Mini in teoria ci sarà Perché prenderà il posto della generazione Mini L'iPhone SE di terza generazione Per il momento siamo fermi all'iPhone SE di seconda generazione Che è quello uscito nel 2020 Di cui vi ho portato l'unboxing Che praticamente assomiglia ad un iPhone 8 Ecco a quanto pare quest'anno Apple rilascerà l'iPhone SE 3 Che invece potrebbe sembrare come un iPhone Mini Quindi con la notch e tutto il resto Ve ne parlerò meglio a fine video di questo SE di terza generazione Ma il suo rilascio sembra praticamente certo Dato che abbiamo già visto delle sue nomenclature Insomma delle sue tracce all'interno di alcuni software Che Apple ha rilasciato Quindi se proprio siete disperati per la scomparsa Dell'iPhone 14 Mini che non ci sarà L'SE di terza generazione sarà quanto di più simile A quel concept a quanto pare Tornando però a concentrarci sugli iPhone 14 14 Max Pro e Pro Max Da questo render possiamo già intuire Tutta una serie di caratteristiche Come per esempio come sostiene John Prosser Scrittore di front page tech E leaker diciamo con una certa esperienza e autorità in materia Apple tenderebbe molto di più quest'anno al design a mattonella Intanto sembra quasi sicuro Che vi sarà proprio un cambio radicale significativo di design Rispetto agli iPhone 12 e 13 Che siamo ormai abituati a vedere E principalmente questo cambio di design Consisterà innanzitutto nelle fotocamere Nelle lenti delle fotocamere Che rimangono sempre due sui 14 e 14 Max Invece tre lenti sui 14 Pro e Pro Max Ma la vera differenza sarà che quest'anno Non saranno più sporgenti Sono ormai anni e anni che Apple ci propone Uno smartphone con delle fotocamere Che sporgono un po' sul retro Il che a qualcuno non piace Perché per esempio quando si appoggia l'iPhone sul tavolo Non è sempre perfettamente bilanciato Ebbene molto in stile iPhone 4 A quanto pare quest'anno vedremo finalmente Gli iPhone con le fotocamere Perfettamente interne senza che strabordino in alcun modo Ovviamente siccome da un punto di vista ottico e fisico Questa cosa non è possibile Perché le lenti per fare il loro lavoro Devono sporgere un po' Si pensa che Apple possa raggiungere questo scopo Semplicemente aumentando lo spessore Dello smartphone Di tutto lo smartphone Quindi potremmo avere un iPhone 14 un po' più spesso Ma dall'altro lato senza nulla di sporgente Ma non è finita qua Abbiamo appena iniziato a parlare di design Infatti vi invito anche a dare un occhio ai bottoni All'interruttore per il silenzioso E così via Avranno un look diverso E anche qui a me sembrano molto ispirati Al design dell'iPhone 4 e 4S Che tra l'altro per inciso Secondo me rimane il miglior design iPhone di sempre E inoltre grande novità Si pensa che finalmente I display ProMotion a 120Hz Che sono arrivati l'anno scorso Il 2021 Solo ed esclusivamente dei modelli Pro Negli iPhone 14 Saranno su tutti e quattro i modelli Tutti e quattro i modelli Avranno un ProMotion a 120Hz Indistintamente che sia un iPhone 14 O un iPhone 14 Pro Ma io per il momento Vi ho parlato solo ed esclusivamente Del retro del dispositivo Per carità molto interessante Le fotocamere Tutto piatto e così via Ma la vera novità Da un punto di vista estetico Ce l'avremo davanti Perché a quanto pare Finalmente sarà l'anno di morte della notch Questa tacca in alto Che ha contraddistinto Intere generazioni di iPhone Ma che ahimè Adesso è diventata un po' obsoleta Probabilmente potrà lasciarci per sempre In favore di un Double Hole Punch Display Questo infatti è il render più accreditato Per il momento Di come si pensa Saranno gli iPhone 14 E tra l'altro È l'unico render Di tutti quelli che vi sto mostrando Che si basa effettivamente Su una foto reale Che è questa qui Condivisa su Twitter Da un leaker Di nome Shrimp Apple Pro E tra l'altro In seguito Anche confermata Da Min Chi Kuo Che esattamente Un anno fa A settembre del 2021 Quindi prima ancora Dell'effettivo rilascio Degli iPhone 13 Sosteneva che Apple Stava testando Questo tipo di soluzione Per gli iPhone 14 Quindi per gli iPhone Di una generazione dopo Adesso è arrivato il momento Di pensarci Sebbene non è la prima volta Che vediamo sul mercato Soluzioni di questo tipo Quindi un display Tutto schermo davanti Con in alto Un buco per la fotocamera È la prima volta Che lo vedremo doppio Perché in questo caso Se Apple davvero Adottasse questa soluzione Di design Per rimuovere la notch Non sarà sufficiente Un solo buco Per la fotocamera selfie Che per la cronaca Tra le due Dovrebbe essere Quella perfettamente Circolare Sulla sinistra Ma in più Servirà anche Un altro buco Quello ovale Sulla destra Per tutti i componenti Di Face ID Quindi il dot projector E la fotocamera Ad infrarossi Che lavorerà In accoppiata Ovviamente se volete Un discorso più approfondito Su come funziona Il Face ID E su quali sono I suoi componenti Ne ho già parlato In un video Molto speciale Dove ve lo faccio vedere In una veste Un po' diversa In un prototipo Quindi raggiungetelo Cliccando il link Qui in alto Nelle schede Ma prima Aspettate di finire Questo video Tuttavia Aspettate a gioire Perché si presuppone Anche se io Su quest'ultimo Su quest'ultima indiscrezione Ecco Sono un po' scettico Che questa soluzione Whole Punch Sarà soltanto Per i modelli Pro E che invece Gli iPhone 14 E 14 Max Avranno anch'essi La notch Come è sempre stato Questa infatti Sarebbe effettivamente Un'immagine Che mostra Un confronto Tra un iPhone 14 Pro Sulla sinistra E un iPhone 14 Sulla destra Tra l'altro Piccolo inciso Una cosa che non c'entra niente Con il video O meglio C'entra ma c'entrerà L'anno prossimo Si pensa che nel 2023 Arriverà finalmente L'iPhone 15 16 Tra 1 o 2 anni Potrebbe finalmente Essere realizzato Usando il materiale Titanio Che è molto Molto più leggero Rispetto all'alluminio O l'acciaio Che attualmente Viene coinvolto Nei processi Di realizzazione Il brevetto Esiste già Apple starebbe A quanto pare Pensando ad un modo Per risolvere il problema Delle impronte digitali Che sul Titanio Si vedrebbero in modo Molto più marcato Una volta risolto Questo problema Apple potrebbe iniziare Ad utilizzarlo Veramente per la produzione Degli iPhone futuri Anche le fotocamere Sul retro Si pensa Saranno da 48 megapixel Tramite tra l'altro Una funzione Suggerita da Min CQ Chiamata Pixel Binning Che consiste nel fare in modo Che tanti pixel Più piccoli Vengono uniti Per formare Un pixel Solo più grosso Proprio per spiegarvela In termini base base Che quindi Ufficialmente La fotocamera Avrà meno di 48 megapixel Ma all'atto pratico Sarebbe come Se ne avesse 48 E questo Effettivamente Potrebbe aprire le porte A una scelta Che secondo Quo è Obbligatoria Per il mercato Odierno Degli smartphone Ovvero che Tutti questi Nuovi modelli Saranno capaci Di registrare Video 8K 10 bit In HDR Parliamo adesso Di porte Ormai sappiamo Che Apple Segretamente Sta lavorando Ad un modo Per rimuovere Completamente Tutti i fori Tutte le porte Dai nuovi iPhone Per renderli Completamente impermeabili E renderli capaci Di immersioni Questo pare Sarà l'obiettivo Finale di Apple Ma siamo ancora lontani Infatti l'iPhone Di quest'anno Avrà ancora A quanto pare Una porta lightning Non passeranno All'USB-C A questo punto Io direi che Quando la porta lightning Morirà Verrà sostituita Semplicemente con nulla Cioè verrà tolta La porta E l'iPhone Non farà in tempo A vedere la USB-C La toglieranno direttamente Secondo me Però una chicca Che ho trovato Molto interessante A questo proposito Nel nuovo Apple Watch L'Apple Watch Serie 7 È scomparsa La porta diagnostica Che era una porta Che si trovava All'interno Del meccanismo Per inserire il cinturino Ed era una porta Proprietaria di Apple Attraverso la quale Poteva interfacciarvisi Soltanto Apple Con un cavo particolare Che hanno solo loro Che serviva appunto Per utilizzo interno Ed eventuali diagnosi Sui problemi del dispositivo Ecco Nell'Apple Watch Serie 7 Questa porta è stata tolta Perché per la diagnosi Per comunicare internamente Con l'Apple Watch Apple utilizzerebbe Un nuovo metodo Wireless Senza cavo Che consentirebbe Il passaggio di dati Dall'Apple Watch Ad un dispositivo esterno E viceversa Ed è questa nuova tecnologia Che sfrutterebbe Delle frequenze A 60.5 GHz Per un passaggio dati Appunto Ovviamente per il momento Non ne sappiamo Forse sono semplicemente io Che non ne so abbastanza Sono ignorante Come una bestia Ma se vi dovesse interessare Questo argomento Potrei portarci Un video approfondito Perché a me In primis Ha incuriosito molto Per quanto riguarda Le specifiche tecniche Dei nuovi iPhone 14 L'analista Jeff Poo Afferma Che ovviamente avranno Tutti il processore Apple A16 Perché l'ultimo Che si trova Sui dispositivi Dell'anno scorso È la 15 E che avranno tutti Almeno 6 GB di RAM Si pensa Poi che i modelli Pro Potrebbero avere 8 GB di RAM Però tutti partiranno Da un minimo Di 6 GB di RAM E peraltro A quanto pare Per questo Apple A16 TSMC Che è la casa produttrice Dei chip in sé Potrebbe utilizzare Il modello Di un chip A 4 nanometri Eravamo in fibrillazione Per i 5 nanometri Della 15 Dell'anno scorso Si potrebbe passare Già addirittura Ai 4 nanometri Sempre parlando Di impermeabilità Ci sono delle voci Che sostengono Che almeno Su uno Dei nuovi modelli Di iPhone 14 Mancherà Lo slot Per la scheda SIM Ora È vero Che il mondo Si sta spostando Sempre più Sulla eSIM Sull'elettronico Sul digitale E soprattutto Avrebbe senso Farlo in America Dove sono Molto più avanti Da questo punto di vista Quindi effettivamente I modelli americani Probabilmente Già da quest'anno Potrebbero non avere Più lo slot Per inserire Una SIM Fisica Ma potrebbero essere Semplicemente Dual SIM Con due SIM Con due SIM virtuali Ovviamente Anche se questa cosa Dovesse succedere In America Secondo me I modelli globali Per ovvie ragioni Avranno ancora Il carrellino Della SIM Perché non ci si può Aspettare che in tutto Il mondo Da un giorno all'altro Tutti quelli che vogliono Acquistare il nuovo iPhone Buttino la loro SIM Nella spazzatura Per aprire Un'elettronica Soprattutto considerando Che in certi paesi Le SIM ancora Non è nemmeno Una realtà In Italia Sta cominciando Ad esserlo ora Però effettivamente In America È plausibile Che già quest'anno Almeno uno Diciamo Secondo me La linea pro Del nuovo iPhone 14 Non avrà più Uno slot fisico Per la SIM E appunto Come vi dicevo prima Si va sempre più Verso l'impermeabilizzazione Del dispositivo Prima di salutarvi Vi parlo Dell'iPhone SE 3 Come promesso Che appunto Dovrebbe essere L'iPhone più economico Di tutti Tra quelli del 2022 Tra quelli di quest'anno E appunto Capisco come mai Apple non produrrebbe Più il mini Perché al posto del mini Ci sarebbe questo SE Ora La linea SE Che se vi siete dimenticati Sta per special edition Sin da quando è uscito Il primo iPhone SE Nel 2015 16 Non mi ricordo 15 penso È una linea caratteristica Perché ricalca L'aspetto estetico Della linea iPhone precedente Quindi non dell'ultima Ma della penultima A rigor di logica Se è vero Che quest'anno L'iPhone 14 Cambia design E avrà il look Da hole punch display L'iPhone SE Di terza generazione Dovrebbe assomigliare Agli iPhone 10 Diciamo Con la notch Quindi dovrebbe essere Un iPhone a mattonella Con la notch Più piccolino Che cosa vi porta a pensare Questo? Un iPhone mini Secondo me sarà Un iPhone 12 13 mini Perché poi alla fine Il processore che avrà Sarà una 14 O una 15 Sarà questo Con le specifiche Un po' cambiate E con un altro nome Più o meno Secondo me sarà Di questa grandezza E quindi queste Erano ragazzi Tutte le novità Per quanto riguarda I nuovi modelli Di iPhone 14 I nuovi modelli Di iPhone 14 Pro E il tanto atteso E rumoreggiato iPhone SE Di terza generazione Siamo solo agli inizi Siamo a Nemmeno febbraio Siamo alla fine di gennaio Quindi c'è ancora Un mondo C'è ancora Mezzo anno Di rumors e leaks Da scoprire E io non vedo l'ora Di scoprire Tutte queste novità Insieme a voi Quindi seguitemi Su Instagram Dove pubblico I giornamenti quotidiani Sulla mia vita E sulla tecnologia In generale Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere Lasciando un bel pollice in su Che mi renderebbe Veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network Il link che vi lascio Qua sotto in descrizione Cliccando a cui lati Potete raggiungere Altri miei due video Invece cliccando in quel centro Vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo In un prossimo video